Il lavoro può essere creato, deve essere creato. Vorrei provare a puntare l'obiettivo sul lavoro, ma da un punto di vista un po' diverso. Perché si parla sempre di cosa studiare per trovare lavoro, di come cercare lavoro, ma non si parla praticamente mai di come crearlo. Io invece credo che bisogna iniziare a parlare del lavoro seriamente, ma del lavoro che magari oggi neanche esiste, ma che voi potete creare per voi, per le vostre famiglie, e perché no, magari per decine, centinaia o migliaia di altre famiglie. Il lavoro può essere creato, deve essere creato. E chi se non voi ha dovere di creare i posti a lavoro? L'unico grande consiglio che mi sento di darvi è quello di seguire sempre le vostre passioni, quelle cose che vi fanno bruciare un fuoco nel pezzo, senza mai però dimenticarvi di essere umili e senza mai smettere di studiare e di imparare. E ricordate soprattutto che a fallire sono sempre i progetti, mai le persone. Guardate quindi al futuro con fiducia e siate coraggiosi, perché il vostro futuro lo scrivete voi e non permettete mai a nessuno di scrivere al posto vostro.